Amici della Rana, oggi desidero mostrarvi alcuni degli articoli in promozione in questo periodo. Abbiamo il fantastico tablet Acericonia Tab A500, articoli per l'ufficio come stampanti e fax, notebook e netbook per gli utenti da casa, console come la nuova Nintendo 3DS rossa o calcolatrice traduttori elettronici che possono diventare regalo utile e tecnologico per questo Natale. Venite a scoprire quanti regali tecnologici potete trovare nel nostro negozio. Vi aspettiamo!